La rosa damascena è un profumo divino, è un profumo che attiva il cuore, il chakra del cuore. È per l'amore incondizionato, è qualcosa di assolutamente spettacolare, delicato. È per favorire il rispetto, la devozione, la sintonia, l'amore profondo tra gli esseri umani. È un olio essenziale che dovremmo sempre avere, anche solo annusarlo, anche solo sentire le sue note profumate, siccome si parla di aromaterapia, ha un effetto sulla nostra psiche e sul nostro corpo. Si dice che è attivo, efficace per tutti i chakra, per tutti gli esseri chakra, per i corpi sottili, che porta la mente a pensieri più elevati, più spirituali, per creare armonia intorno a noi, armonia nella famiglia, con i nostri figli, armonia nell'ambiente di lavoro. È un olio essenziale, è un dono divino per gli esseri umani. Si regalano le rose proprio per esprimere amore. E la rosa damascena è una rosa particolarissima, molto antica, che ha queste note profumate delicatissime a livello più elevato. Grazie a tutti.